Ciao! Come ti chiami? Max! Max, yes! Da dove vieni Max? Travallato! Ok, cosa fai di per me la vita? Lavori in lavanderia e fai caldaista! Fantastico! E come vorresti la tua donna ideale? Tutta da scoprire! Tutta da scoprire! Ragazzi, qui abbiamo sul pesante! Tu stasera sarai contentissimo di essere qua! Perfetto, grazie, grazie, grazie! Bene, bene, bene! È arrivato! Grazie!